Ciao a tutti! Oggi mi divertirò a sparare sulla Croce Rossa, perché è molto molto facile e anche molto molto divertente. Dunque, intanto che eravamo allegramente alle scuole superiori, io ho vissuto un trauma personale e non dimentico i miei nemici, come suggeriva Kennedy, credo. Dunque, questa personcina qui, ovviamente era un prete, aveva detto che il matrimonio era per sempre per loro e delle persone avevano chiesto mi scusi, ma se mio marito mi usa tipo schiava, mi picchia, mi tradisce, non è che da questo matrimonio me ne potrei anche andare perché non voglio morire? Lei aveva risposto che un cristiano deve accettare il martirio cristiano. Quindi, se ho capito bene, noi perdoniamo come cristiani chiunque, abbiamo questo valore del perdono, perdoniamo chiunque, però se una povera disgraziata si è sposata a vent'anni, ha fatto sta cazzata di sposarsi troppo giovane, che a vent'anni può succedere? Perché cosa ne sa una persona a vent'anni del mondo? Io sono ancora molto naif, a 40 quasi, quindi immaginiamoci, si sbaglia, quindi deve essere torturata a vita. Noi perdoniamo assassini, criminali, gente che ruba, corrotti, ma quella povera disgraziata ha giurato a vent'anni completamente naif, non sapeva neanche da che parte fosse girata e quindi noi dobbiamo continuare a infierire su questa povera donna. Io mi chiedo solo una cosa, se non è sessista questa cosa, io non lo so. Poi c'è solo una cosa, noi non abbiamo alcuna pietà contro questa donna, tu che predichi questa stronzata qui non hai alcuna pietà nei confronti delle donne, ma che razza di uomo sei?